amici di motori a 360 gradi di sky 229 siamo alla concessionaria agricar agrica vuol dire mercedes perché siamo qui continua il nostro mondo dell'elettrico oggi con giusto albini prodotto esper della concessionaria agrica andremo ad affrontare il mondo dell'elettrico grazie giorgio di essere con noi cosa andiamo a presentare oggi oggi presentiamo la nuova mercedes equa nella versione 250 perché si chiama equa perché il primo sport utility compatto di mercedes che condivide i tratti salienti quindi estetici sia per quello che riguarda l'estetica sia per quello che riguarda le dimensioni con gl a equa 250 disponibile nelle versioni 300 e 350 personalizzabili in sei allestimenti diversi quella che andremo a provare oggi è una equa nell'allestimento sport plus l'allestimento intermedio già ben accessoriato e comprende faria led telecamera sensori di parcheggio anteriori e posteriori navigatoria e doppio display da 10 pollici il frontale si chiama black panel ed è un elemento distintivo delle vetture elettriche con la stella della mercedes posta al centro ecco una domanda che mi viene spontanea visto che alle nostre spalle ci sono le famose colonnine che chi compra una vettura deve anche ricaricarlo cosa deve fare che colonnine sono e che tipologia di ricarica ci mercedes qua è possibile ricaricarla sia in corrente continua sia in corrente alternata in corrente continua impiega circa 32 minuti in corrente alternata quindi tramite wallbox circa sei ore andiamo a provare questo prodotto mercedes all'interno della città di brescia e vedere quelle sono le sue caratteristiche e come si comporta nel traffico normale cittadino andiamo non siamo partiti ovattati dal silenzio dalla concessionaria ci stiamo mettendo sulla statale per andare in centro una cosa che volevo chiederti ma se con l'elettrico c'è tutta questa tranquillità questa silenziosità chi è in mezzo alla strada come fa a sentire a capire che sta arrivando un mezzo elettrico perché col termico il rumore c'è con l'elettrico il rumore non c'è questa domanda è quella che mi fanno generalmente un po tutti i clienti nel senso che naturalmente come hai detto tu essendo una vettura totalmente elettrica e priva del classico motore a combustione durante la marcia non la vettura non fa rumore ecco per questa ragione durante le manovre di parcheggio quindi nel momento in cui il conducente all'interno dell'abitacolo inserisce la retromarcia la vettura emette un segnale acustico continuo per avvisare gli altri utenti della strada che la vettura si trova in fase di manovra ecco un'altra cosa che balza subito all'occhio il cruscotto tutto è a portata di mano non devi distogliere la tensione dalla strada ma con touch puoi fare dal navigatore assolutamente sì su questa vettura come per tutte le nostre vetture della gamma è installato il nuovo sistema multimediale di mercedes mbux che offre appunto questa configurazione con il doppio monitor da 10 pollici quello centrale è touch per cui è comandabile direttamente dallo schermo mentre quello del guidatore quindi per intenderci dove il conducente visualizza la velocità e la potenza erogata dalla batteria al contrario no bello questo qua dell'idea di navigatore incorporato dalla parte sinistra del guidatore sempre per un discorso di attenzione assolutamente sì proprio in quest'ottica i due quadranti del contachilometri sono personalizzabili per cui il guidatore ha la possibilità di poter scegliere quale tipo di informazione visualizzare all'interno del display che si trova davanti agli occhi ecco rimanendo sempre sul display come faccio a capire quanti chilometri di autonomia ho ancora guidando senza fatemi d'animo di dire oh sto finendo la ricarica allora il display delle informazioni del conducente offre la possibilità di vedere la percentuale di ricarica della batteria e l'autonomia che viene calcolata sulla base dello stile di guida e del percorso che io in quel momento sto percorrendo inoltre grazie al sistema mercedes benz intelligent drive tramite il navigatore la vettura mi dà la possibilità di poter programmare una sosta sulla base della presenza di una colonnina di ricarica per poter appunto fermarmi e ricaricare la vettura la vettura che stiamo provando è una equa 250 che ha una potenza di 140 kilowatt che equivalgono a 190 cavalli con un'autonomia che varia dai 400 ai 426 chilometri sono già ordinabili le altre versioni per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti i modelli a trazione integrale 300 e 350 sono ancora più sportivi e in futuro sarà disponibile una versione con un'autonomia superiore ai 500 chilometri bene amici di motori a 360 gradi di Sky 229 siamo alla concessionaria Agricar al termine con l'amico Giorgio Orbini della concessionaria Agricar questo prodotto elettrico le attese si sono confermate proprio nel traffico cittadino le peculiarità la silenziosità la ripresa essere su un salotto praticamente un plus importante di questo prodotto mi fa piacere che la vettura abbia in qualche modo soddisfatto le vostre aspettative vi aspetto per provare le prossime vetture della gamma IQ quindi continueremo il percorso nel mondo elettrico o ci sarà qualche sorpresa? aspettiamoci delle sorprese bene in attesa di questo noi ringraziamo l'amico Giorgio Orbini della concessionaria Agricar l'appuntamento è alla prossima e conoscendo Giorgio sicuramente le sorprese sono dietro l'angolo grazie e buona sera